A chi vi rimettete per dirigere gli affari di Stato? A i cittadini. E come si scegliono i cittadini che diventeranno i capi della città, tirando a sorte, con delle fave? Dirigere gli affari di Stato non è forse cosa molto difficile? Sì. Se tu dovessi intraprendere un viaggio per mare, sceglieresti un pilota tirandolo a sorte? No. E il tuo calzolaio, il tuo maniscalco, il tuo medico, li sceglieresti tirando a sorte? No. Vedi dunque, non affideresti la tua vita ad un medico scelto dalla sorte, ma sei pronto tu, un buon cittadino, a mettere gli affari della città nelle mani di uno qualunque, forse un poveraccio. Ma ora hai ammesso che la politica è la più difficile delle scienze. Non sei dunque in contraddizione con te stesso?